Grazie a tutti. Oggi è la 32esima domenica del tempo ordinario, ci avviciniamo sempre più verso l'Avvento e il Vangelo di oggi, cari amici, ci propone una tematica che era molto sentita nel tempo di Gesù e che metteva in contrasto i due partiti che contendevano il potere religioso, cioè i Sadducei e i Farisei. I Sadducei non credevano nella resurrezione mentre i Farisei ci credevano e pongono a Gesù di risolvere una questione che a noi pare un po' strana, comunque evidentemente a quei tempi era molto sentita. Cioè pongono l'esempio di una donna che è stata sposata a sette fratelli, i quali appunto l'hanno sposata uno dopo l'altro perché sposandolo moriva, non so, ma abbiamo fatto perseverare fino alla fine in quel modo. Comunque è un modo di porre un problema per fare poi una domanda, cioè la domanda è questa, cioè nell'aldilà, siccome i Farisei credevano nella resurrezione, nell'aldilà questa donna che l'ha sposata a sette di chi sarà moglie, questa era la loro grande domanda esistenziale, diciamo. A riguardo Gesù approfitta per dire due cose. Prima di tutto che nell'aldilà noi non abbiamo più i corpi che abbiamo adesso, i corpi carnali, che hanno bisogno di mangiare, hanno bisogno, si ammalano, insomma c'è la pesantezza della carne. E perché nell'aldilà di Gesù siamo come gli angeli di Dio, quindi certamente chi è padre è sempre padre, chi è madre è sempre madre, cioè anche in cielo la Madonna è madre di Cristo, eccetera, no? Però non ci sono più i rapporti carnali fra marito e moglie, come per esempio pensano i musulmani. Dunque questa è la prima affermazione che noi poi svilupperemo, abbiamo bisogno di svilupparla alla luce della resurrezione di Cristo. Perché è vero che nell'aldilà noi avremo i nostri corpi soltanto alla fine del mondo, non subito quando moriamo, ed avremo glorificati. Ma saranno corpi spirituali, corpi come è il corpo di Gesù Cristo risorto, come è il corpo della Vergine Maria, che sappiamo che non sono più soggetti alle leggi della materia, agli istinti della carne. E per fortuna non avremo più bisogno di andare al supermercato, non avremo più bisogno di andare dal medico, insomma non ci sarà più né lacrime, né lamento, né malattie, né vecchiaie, né morti. Saranno corpi pneumaticoi, come si dice, corpi spiritualizzati dallo Spirito Santo. Questo ovviamente lo conosciamo nella prospettiva cristiana, cioè Cristo risorto, come vediamo proprio nei racconti dei Vangeli, non è più soggetto diciamo alle leggi della materia. Difatti appare ai discepoli passando per le mure del Cenacolo, così pure nelle sue apparizioni può apparire nel medesimo tempo in diverse parti, come ovviamente fa la Madonna. Io credo che questa sia una cosa che dobbiamo approfondire perché questa vita sulla terra è molto tribulata a causa della schiavitù della carne, lo vediamo insomma, e dalla sua debolezza, anche dalla sua pesantezza, mentre nell'aldilà avremo corpi glorificati, ovviamente se andremo in paradiso. Nel Vangelo non si parla in questo modo di Vangelo di anima, perché l'anima è una tematica che non era ben conosciuta dal popolo ebraico, salvo nei libri ultimi come quelli della Sapienza o altri spunti qua e là, però è chiaro che nell'antropologia cristiana, cioè nella visione cristiana dell'uomo, come dice proprio la Genesi, Dio soffiò il suo spirito, il suo ruà nella polvere perché si formasse il primo uomo. Quindi l'uomo è a due dimensioni, ma questo è vero non solo per la Sacra Scrittura e per noi cristiani, ma anche per tante religioni del mondo, che l'uomo ha due dimensioni, cioè c'è un'anima e un corpo, è per quello che quando muore il corpo, ed il corpo da persona diventa cosa, l'anima sussiste, l'anima sussiste con tutte le sue facoltà. E quindi che cosa succede nel momento della morte? Nel momento della morte, oggi che abbiamo lasciato la fede cristiana e ci siamo adeguati a una scienza che comunque va al di là delle sue possibilità, perché che ne sa la scienza dell'anima, insomma. Comunque sia, cari amici, nel momento della morte l'anima si stacca dal corpo, quindi questa è la morte cristiana, non è la fine di tutto. Noi non viviamo per diventare nulla, un pugno di polvere, come oggi molti pensano perché hanno perso la fede. Noi abbiamo un'anima immortale che viene giudicata nello stesso istante della morte, nello stesso istante della morte entra nella luce di Dio che la invia direttamente o in paradiso o all'inferno o al purgatorio. E sappiamo, cari amici, che non c'è da spingere troppo per il paradiso, perché la Madonna ci ha detto chiaro, ce l'ha detto anche giù nel Vangelo, che la via stretta la percorrono in pochi, molti percorrono la via larga. E la Madonna Meggiugoli ci ha detto che un numero relativamente piccolo di persone vanno direttamente in paradiso. La maggior parte va in purgatorio, ma un numero ugualmente grande va all'inferno. Purtroppo questa affermazione la Madonna l'ha fatta anche a Fatima, e cioè che molte anime vanno all'inferno. Quindi, cari amici, dobbiamo quindi a questo punto porci il problema del senso della vita, del suo sbocco, del suo itinerario, perché il tempo passa, ci mangia un po' giorno per giorno. Io mi ricordo quando ero ragazzo come se fossi ieri, sono già passati più di 80 anni, e dicevo quando avrò 80 anni cosa farò? Ecco che sono arrivato, c'è niente da fare, però sono arrivato contento, perché li ho investiti bene, perché ho vissuto per Dio, e non mi fa nulla se restare o andare dove devo andare, speriamo no in purgatorio, perché la Madonna ha detto che dobbiamo fare di tutto per non andare in purgatorio, per andare in paradiso. Quindi, cari amici, questa visione della vita cristiana, che è basata sulla risoluzione di Cristo, è molto confortante. Cioè, è vero, la vita è un travaglio, una fatica, ci sono le tribolazioni della carne, ci sono le malattie spirituali, dell'anima, però se siamo fedeli, se ci pentiamo quando pecchiamo, se ripentiamo il cammino, siamo perseveranti, alla fine, cari amici, alla fine della vita, sapete cosa c'è? L'abbraccio di Cristo, l'abbraccio di Cristo risolto, c'è la Vergine Maria, della quale siamo figli, che intercede per noi. Quindi, ecco come dobbiamo andare controcorrente, vivere la vita come un cammino verso l'eternità. E se noi entriamo in questa dimensione, ogni giorno della vita diventa missione, diventa impegno, diventa gioia. E portiamo questo messaggio, cari amici, specialmente quando partecipiamo ai funerali, no? Mi ricordo che una persona mi ha detto, che la confessata mi diceva, vai alla messa domenica, no, non vado mai. E come mai? No, ma io vado a tutti i funerali, mi ha detto. Bene, siamo a tutti i funerali, portate la testimonianza di Gesù risorto, della vita eterna, anche a me scrivono in tanti per la morte dei loro cari. E mi dico una parola di fede, e la dico la parola della fede, cari amici. Con la morte non è vero che finisce tutto. Nella morte c'è la vita eterna, entriamo nella vita eterna, ma che sia veramente vita eterna, cioè la gioia del cielo che non finisce mai. E con questo, cari amici, abbiamo terminato la nostra previa meditazione e concludiamo chiedendo a Dio, Santissima Trinità, per l'interciuto della Bata Vergine Maria, la sua benedizione. Ci benedica, Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Se lo ha dato Gesù Cristo, sempre se lo ha dato. Regina della Pace, prega per noi. Grazie.